La crisi del debito nell'eurozona è un'opportunità per ridisegnare l'Europa con vincoli meno rigidi. Dal banchetto del sindaco di Londra, David Cameron, presenta la sua visione dell'Unione, che, ha detto il premier britannico, deve cogliere l'opportunità per rivedere scopi e regole. Un messaggio forte in un momento nel quale il baricentro decisionale sembra spostato tra Germania e Francia. Che tipo di Europa vogliamo? Secondo me la risposta è chiara. Un'Europa rivolta all'esterno, un'Europa con la flessibilità di una rete, non la rigidità di un blocco. I paesi europei rappresentano la metà dei nostri scambi commerciali e lasciare l'Unione non è nel nostro interesse. Il futuro del Regno Unito resta all'interno dell'Unione e non all'esterno, ha insistito il leader conservatore che non ha esitato a collocarsi tra gli scettici e che è sempre più sotto pressione anche da parte di molti dei suoi deputati che vogliono rinegoziare l'adesione di Londra e che la scorsa settimana lo hanno sfidato appoggiando un referendum per l'uscita dall'Unione.